In dato tierna, i carabinieri della stazione di Bosco Reale, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e dagli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torra Annunziata, hanno proceduto all'arresto di 5 persone, gravemente indiziate dei reati di coltivazione e detenzione illecita di sostanze superfacenti e furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto emesso dalle indagini condotte nel luglio del 2020 dai carabinieri, gli indagati si erano illecitamente impossessati di una porzione di terreno ubicata in un'area periferica del comune di Bosco Reale, dove avevano impiantato una coltivazione di cannabis. Gli indagati, a turno, provvedevano alla cura e al monitoraggio della piantagione, che risultava anche presidiata da telecamere di videosorveglianza, alimentate mediante un allascio abusivo alla parità elettrica. Nonostante le cautelle adottate, i carabinieri sono riusciti ad attuare il monitoraggio dell'area mediante telecamere nascoste e ad identificare progressivamente tutti i componenti del gruppo, individuando diversi ruoli ricoperti dagli stessi. Nel corso delle indagini sono state sequestrate 107 piante di mariguana, sottratte al mercato illecito degli stupefacenti. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre sono stati tradotti presso la casa circondariale di Napoli-Boggio Reale.